Intanto buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questa conferenza stampa, sia ai giornalisti presenti che coloro che sono collegati. Semplicemente per quanto riguarda il Comune di Senigallia, il Summer Jambori è un evento oramai clou della nostra estate, è l'evento che in qualche modo caratterizza per l'estate senigalliese, che quest'anno peraltro posso aggiungere partita molto bene, sia da un punto di vista degli eventi, sia soprattutto da un punto di vista turistico. Abbiamo una grande risposta da parte dei turisti, quindi quest'anno siamo particolarmente soddisfatti. Desideravo innanzitutto ringraziare gli organizzatori che ovviamente permettono ogni anno che questo avvenga, ma in particolare consentiremo di ringraziare, anche se ancora non c'è l'assessore della Regione Marche, perché quest'anno attraverso un maggior contributo ci ha permesso di mantenere ancora questo evento che ribadisco è importante non solo per la nostra città, ma credo per tutte le Marche oramai connotate da questo evento e che ovviamente da questo evento hanno anche una ricaduta da un punto di vista proprio di attrattività e di turismo. Io lascerei subito la parola, adesso credo Alessandro, che poi seguirà la parte più organizzativa e poi lasceremo la parte a te. Grazie a tutti per essere qui alla conferenza stampa di presentazione di questa importante edizione del Summer Jambore. Summer Jambore 2022, ringraziamo anche i colleghi della stampa collegati online, Alessandro e Giulia. Allora, come prima cosa è importante perché, sottolineo un nuovo inizio, in realtà ogni edizione per noi è sempre stata importantissima, perché per noi ogni edizione l'ambizione è quella, l'asticella che ci poniamo è quella di superare le aspettative, anche i risultati dell'edizione precedente, non tanto per quello che riguarda i numeri, perché diciamo oramai i numeri sono già saturi, nel senso che oltre quello il sindaco non credo che la città, il territorio possa ricevere, ma proprio come sentiment da parte del pubblico rispetto all'esperienza che fa al festival. Perché se è vero che il festival è riconosciuto nel mondo come uno dei più grandi festival, il più grande festival europeo, una line-up importantissima dal punto di vista artistico, un'esperienza musicale davvero unica, ma anche di ballo, di insegnamento, davvero importante, che poi Angelo potrà in qualche modo illustrare, almeno per Highlight. Una cosa sulla quale noi abbiamo sempre cercato di lavorare è quella di associare all'esperienza del festival un'esperienza positiva, complessiva, avvolgente, fare in modo che il pubblico quando arriva al festival sente di partecipare a un evento di qualità, indipendentemente dal fatto che sia il pubblico degli aficionati o che comunque ti seguirebbero ovunque, anche in un posto magari sperduto nel mondo, o che siano quelli che per la prima volta approcciano il festival. L'idea è quella di rilasciare nel loro immaginario, nella loro mente, nel loro cuore un'esperienza positiva in tutti i settori, quindi dal momento in cui si sono fermati a fare una sosta per mangiare qualcosa, al momento in cui hanno fruito il festival in maniera differente, che sia da leggere le informazioni per muoversi all'interno della città, che sia all'essere accolti dalle persone che lavorano al festival e così via. E questo in qualche modo c'è anche distinto, c'è distinto proprio nell'immaginario collettivo come evento di qualità ed evento in cui si può stare bene e in cui fare una vacanza davvero, qualcuno l'ha citato, una vacanza al di fuori dei luoghi comuni del divertimento. E su questa strada, su questo tracciato, ringraziamo l'amministrazione comunale e la Regione Marche che ci consentono, attraverso degli investimenti sempre più crescenti, importanti, di poter lavorare in questa direzione, perché oggi sicuramente è ancora più di prima, bisogna puntare su una qualità che sia indiscussa per restare riconoscibili e comunque un punto di riferimento mondiale. Perciò grazie. Angelo. Buongiorno a tutti, tutti presenti anche a quelli collegati online. Insomma a me sta il ruolo di riassumere, di raccontare in pochi minuti, più di un anno di lavoro che abbiamo fatto tutti assieme per scegliere appunto l'artistico di quest'anno. Un artistico come sempre, come diceva Alessandro prima, che vuole ogni anno superarsi, come tutto il festival, è un artistico che riteniamo veramente importante, trasversale, dove non conta l'età, non conta essere una leggenda, perché sono tutti artisti che meritano attenzione il palco e sono tutte storie incredibili, bellissime da raccontare. Avremo dal pianista appena diciottenne, che probabilmente sta già tremando per solcare il palco del Summer Jamboree, a una leggenda come Chubby Checker, che ha fatto veramente la storia del rock'n'roll, addirittura ne ha contribuito in maniera incredibile inventando balli come il Twist o come il Limbo, un personaggio che inseguiamo da tempo e che finalmente quest'anno sarà con noi e insieme a tutti voi al Summer Jamboree. È molto importante questo specchio, questa forbice allargatissima di età, che ci dimostra quanto il festival possa andare all'infinito perché continuano a esserci nuove generazioni e insieme a queste nuove, queste vecchie generazioni ci sono le generazioni che fanno la Tredunion come una band che farà festeggiare il quarantesimo anniversario del primo disco e quindi diciamo con le band che non hanno mai smesso di fare rock'n'roll, perché così è, quando uno si innamora di questo genere non l'abbandona mai. In questo caso gli Stargazzer, una band inglese, e questa è un'anteprima, anzi direi un one-off mondiale, perché si riuniranno soltanto in esclusiva del Summer Jamboree. I generi che trattiamo, come sempre, partono da quello che ha creato rock'n'roll, dalle radici, possiamo partire già dal jazz, poi da New Orleans, dallo swing, attraversando rock'n'roll, do-up, rockabilly e le varie sfaccettature che hanno avuto tutti questi generi musicali, fino ad arrivare al surf. Non solo artisti musicisti, perché quest'anno ci sarà una line-up incredibile che riguarda il ballo, 27 artisti provenienti da tutto il mondo, 27 insegnanti di ballo dal Giappone alla California, veramente un giro attorno al mondo di insegnanti con la quale imparare da zero o perfezionare i propri passi. Parliamo di balli che, grazie al Summer Jamboree, sono riscoperti, nomi come l'Indie Hop, Balboa, che poi, insomma, sono tutte le sfaccettature dei balli che si ballano con i ritmi swing e rock'n'roll. Molti ci chiedono qual è il giorno migliore in cui venire. Noi, come ogni anno, abbiamo lavorato un'edizione dove ogni giorno è un giorno fantastico di Summer Jamboree. Se devo per forza citarne uno, cito il mercoledì 3 agosto, che sarà il giorno del concerto di Chubby Checker, veramente un'occasione incredibile per vedere questo artista che ha veramente fatto la storia. La musica incomincerà al mare alla mattina e finirà alla rotonda nei dopo festival poche ore prima che inizi la giornata successiva. Giusto 6 ore per dormire, dalle 4 della mattina della rotonda alle 10 della mattina della spiaggia. Esatto, ovviamente c'è chi già sta facendo una preparazione atletica per ritornare al ballo in forma e resistere così tanto tempo. Penso di aver detto tutto dal punto di vista artista. Tutto no, però insomma di aver fatto un overview. Esatto, una bella... e se ci sono domande ovviamente siamo a disposizione. Little Lill, Little Teal. And this Little Teal and in Shaking Pian suonirà il mercoledì 3, lo stesso giorno del concerto di Chubby Checker, ma tutti i concerti sono fatti in modo che si riescono a vedere buona parte di tutti i concerti. I palchi, non ho detto una cosa, i palchi sono due, il palco main stage, il palco principale di Piazza Garibaldi e poi ci sarà il palco della Rocca Roveresca, che è Rocca stage. Sono due palchi, avranno altrettante piste da ballo, insomma abbiamo preparato anche un bel programma che indicherà tutte le piste da ballo per tutti gli appassionati. Una pista nuova da ballo sarà sulla spiaggia al mattino perché il festival è sempre stato impostato che dal mattino al Mascalzone, un chalet a Senigallia, la gente potesse ballare da mezzogiorno. A grande richiesta l'altro lungomare, il lungomare di Ponente, perché il Mascalzone è sul lungomare di Levante. In questi anni è stato appunto richiesto di organizzare qualcosa e finalmente abbiamo trovato la quadra quest'anno in una spiaggia libera di Senigallia, dove dalle 10 del mattino ci sarà appunto la possibilità di sostare in spiaggia libera e ballare in questa pista che verrà montata proprio in riva al mare, questa spiaggia che abbiamo denominato Hawaiian Beach, che quest'anno in qualche modo sostituirà dal punto di vista delle atmosfere, quelle atmosfere havaiane solite dell'Hawaiian Party che invece il mercoledì 3 agosto vedrà il concerto di Chubby Checker in centro storico proprio per una ragione organizzativa e logistica. Ma tutte le atmosfere havaiane si potranno respirare tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 8 di sera a questa Hawaiian Beach a cui chiaramente siete tutti invitati. Tra l'altro ci sono anche degli asciugamani ecologici fatti con bottiglie riciclate e prese dal mare quindi ci è sembrato un bel messaggio anche dal punto di vista ecologico. Infatti Carina viene spontanea la risposta, quando sarà quest'anno la festa hawaiana? Tutti i giorni, tutti i giorni dalle 10 di mattina alle 8 di sera alla Hawaiian Beach. E il concertone, sì, lo sottolineiamo perché è un cambio, insomma, lo faremo appunto in Piazza Garibaldi nel Main Stage che per l'occasione verrà appunto chiusa per biglietto con ingresso. Esatto, no, no, quello che è importante è che tutta la città di Senigallia verrà quest'anno, questa volta posso dire tutta la città, quindi non solo il centro storico ma il lungomare sud del lungomare nord verrà ovviamente occupata da questi due ragazzi che c'ho qui intorno, dopodiché non so se vogliamo prossimamente andare sulle frazioni che si preoccupano, non lo so, non ci abbiamo più spazi, comunque questo e su questo stiamo molto puntando e siamo molto grati per l'attività che loro hanno fatto, è un lavoro che come vi hanno detto non è, può sembrare un lavoro scontato, è un lavoro che è durato oltre un anno ma anche più, è frutto anche di un'esperienza ormai pluriventennale e che migliorano dopo anno. Io mi auguro che sarà una bellissima settimana, ne siamo già certi e auguro loro un buon lavoro ma anche la possibilità di riposare durante la settimana, sennò non li gestisco più. Grazie, sì. Ce n'è una alla Rocca, una in piazza Garibaldi, una in spiaggia nella lungomare Ponente e lungomare Levante, poi altri luoghi per ballare sono comunque la Rotonda Mare tutte le notti, che è proprio una pista, è proprio il luogo deputato al ballo ma anche iconograficamente perfetto direi per questo genere di musica. Invece per quanto riguarda la line up del dance camp si svolgerà in quattro sedi e quella distribuita in mattina e pomeriggio si chiamano appunto dance camp e boot camp a seconda dell'esperienza che un ballerino o futuro ballerino voglia affrontare. Allora, nel nostro sito ci sono tutte le spiegazioni dettagliate per partecipare al dance camp e al boot camp. Chi invece vuole solo approcciarsi al ballo in maniera un pochino più superficiale ma capire anche di cosa stiamo parlando, abbiamo anche le lezioni gratuite. Le lezioni gratuite si terranno sia nel Prato della Rocca che davanti al, diciamo, nella Hawaiian Beach che abbiamo nominato prima. Sì, ci sono un'ora in un giorno e un'ora in un altro in cui sarà possibile capire i primi passi e apprendere i primi passi. Una cosa di relazione, intanto buongiorno Assessore e benvenuta. Il ringraziamento alla regione Marche l'abbiamo fatti in testa alla conferenza stampa appunto per questo evento che sta sempre più crescendo e rappresentando il territorio regionale e a questo proposito anche in base a quello che diceva il sindaco prima, l'idea di spostare il palco principale dal Foro Anonario a Piazza Garibaldi che è una piazza molto più grande che è maturata in realtà nel corso della scorsa edizione e di usare il Foro Anonario invece per altre iniziative come il Walking Tattoo e il parcheggio di auto d'epoca, tra l'altro quest'anno ci sarà una collezione importantissima che arriva con l'Asi, con la collezione di Bulgari insomma di alcune auto davvero preziose. L'idea appunto di avere uno spazio sempre più grande per poter accogliere le tante persone che magari non alloggiano necessariamente a Senigallia ma anche altrove e quindi appunto nell'ottica della crescita anche numerica del pubblico in realtà diffondere il festival nei due lungomari e anche nella parte più verso la costa e più verso l'interno della città tra Piazza Garibaldi e Rocca Roveresca consente una fruizione, una distribuzione del pubblico molto più grande, sono migliaia di metri quadrati coinvolti, sono molti di più ma presumibilmente la percezione e anche la godibilità dell'evento potrebbe migliorare notevolmente proprio perché è un evento molto diffuso, sono oltre 25-30 mila metri quadrati gli spazi in cui le persone possono viaggiare. Ci sono vari street food collocati tra Rocca e Piazza Garibaldi e naturalmente anche degli street food nella spiaggia libera appunto dalla mattina per una colazione o un brunch o quello che sia. Assessore, sì. Intanto veramente scusate per il ritardo però la giunta si è prolungata e quindi non sono riuscita a arrivare prima però sono veramente ecco contenta qua intanto di portare il saluto del presidente visto che sono anche i fondi del turismo perché qua parliamo di un evento che ha una caratura internazionale e che si svolge sul territorio della nostra regione Marche quindi un evento importante che è cresciuto sempre di più perché è partito come un evento di nicchia e si è trasformato come l'evento più importante di tutta Europa per gli appassionati di musica e cultura degli anni quaranta e cinquanta eh americani e quindi devo dire che eh sicuramente per noi è l'occasione di eh avere la possibilità attraverso questo evento di far conoscere eh la nostra regione al al mondo quindi è sicuramente un evento che quest'anno abbiamo voluto sostenere eh insomma in maniera importante proprio anche per far comprendere che la regione ecco è vicina a queste realtà che eh hanno eh iniziato diciamo con questo percorso no? Tra vari appassionati e poi dopo sono riusciti a trasformare una piccola iniziativa in un grande evento internazionale ma soprattutto ecco sostenere eh questa organizzazione il comune di Senigallia eh anche viste le difficoltà degli anni precedenti dopo lo stop del duemilaventi, il duemilaventuno magari con delle restrizioni e quest'anno invece ecco si vuole ritornare al ai numeri del passato ma soprattutto ecco avete delle ambizioni sempre più importanti, più grandi chiedendo come stavate dicendo degli spazi anche no più utilizzabili, più ampi e quindi io penso che questo sia eh un evento importante per eh far conoscere il comune di Senigallia ma per far conoscere tutta la nostra regione e quindi eh ecco mi fa piacere eh che come regione Marche insomma sosteniamo eh questa iniziativa e mi complimento con l'organizzazione, con con gli organizzatori, quindi con voi, con il comune insomma che è vicino a a questa iniziativa così così importante e quindi è è fondamentale fare fare rete tra enti eh quindi tra istituzioni questo lo stiamo portando avanti in tutta la politica culturale della eh regione Marche con eh iniziative che non sono eh solamente di eh appannaggio regionale ma diciamo la regione eh si mette a disposizione come regista per mettere insieme tutti eh registi minori che da soli magari non avrebbero le forze e anche la capacità di comunicazione per far risuonare queste iniziative che poi in ogni territorio no sono nate e stanno sempre più crescendo quindi la nostra funzione è proprio quella di stare al fianco eh dei territori e di far crescere sempre di più iniziative importanti come questa quindi complimenti ancora e insomma sono convinta che sarà una bellissima edizione questa ventiduesima edizione. Ovviamente l'assessore è invitata non solo a tutti i corsi di ballo, dance camp, boot camp ma anche e vari concerti quindi l'aspettiamo. Aspettiamo. Grazie.